Il sindaco Giuseppe Morello si dovrà difendere dall'accusa di abuso d'ufficio, l'ex assessore dello stesso comune, l'avvocato Luisa Maniscalchi, che si è dimessa poco dopo la sua nomina, deve rispondere di falso. Accolto dal giudice per le intagini preliminari del Tribunale di Agrigento la richiesta di rivia giudizio immediato, presentata dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e dal sostituto procuratore Luca Sciarretta. I fatti risalgono al 12 giugno scorso quando l'avvocato Maniscalchi fu nominato assessore dell'Aggiunta Morello. Sulla nomina in tanti si indignano, ricordando il mese di luglio del 2008, quando la professionista patteggiò la contanna a un anno e sei mesi di reclusione per favoreggiamento nei confronti di uno dei fedelissimi del boss di Campobello di Licata, Giuseppe Falsone, in quel periodo latitante. Nominando l'assessore, secondo l'inchiesta della procura, il sindaco Morello avrebbe procurato alla Maniscalchi un giusto vantaggio patrimoniale in danno del comune di Naro, mentre l'avvocatessa, oltre a conseguire il profitto, avrebbe presentato una dichiarazione sostitutiva di un atto notorio omettendo di averle riportato una condanna passata in giudicato. Ora i due imputati, entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, hanno la possibilità di richiedere il rito abbreviato in attesa dell'udienza di comparizione fissata per il prossimo 29 ottobre. Grazie a tutti.